Imponenti edifici con portoni chiusi e finestre abbassate, lunghi corridoi vuoti, aule deserte con mobilia cattastata e strumentazione dismessa, cortili silenziosi con strutture che richiamano alla memoria la chiassosa attività ricreativa peculiare alla vita scolastica. È la scolaggiante immagine di una realtà surreale conseguente alla dilagante epidemia del coronavirus in atto. La dura prova che l'intera società sta affrontando, come ogni esame, evidenzia pregi e carenze del sistema globale, organizzato dal genio umano secondo una regola efficientista squilibrata, per cui in questa situazione è meno arduo individuare chi è interessato a operare per il bene comune e chi invece pretende il bene per sé. Infatti, insieme a medici e infermieri professionisti operanti secondo un'etica che rispinge fino al sacrificio, ci sono anche opportunisti che nel momento del bisogno optano per scelte alternative, così come in tutti i settori della complessa organizzazione sociale, originati dall'unica entità responsabile della formazione, che è la scuola. Per questo a essa va riconosciuto un ruolo fondamentale nel tessuto sociale ed è interessante anche constatare in momenti critici come questo la sua capacità resiliente, soprattutto se deve ricorrere a strumenti anomali per svolgere le sue necessarie funzioni. Our school doesn't stop. We keep studying remotely with our teachers. In English we learn new vocabulary on Quizlet. We study new grammar topics with video lessons. We practice listening on learning. We play games on Kahoot. We collaborate and do group projects with our classmates. We practice for our end of the year exam. And we keep in touch with our teacher on Google so keep calm and study English. L'emergenza che stiamo vivendo ha imposto modalità nuove di fare scuola, in particolare con la cosiddetta didattica a distanza. È un obbligo morale per noi, perché è il modo che noi abbiamo in questa situazione di tenere fede al patto educativo stipulato con le famiglie, ed è un obbligo imposto dalla normativa ministeriale al fine di tutelare il diritto costituzionale di garantire l'istruzione. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Come state? Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene. Bravi ragazzi. Allora, allora, vediamo un po'. Per oggi abbiamo degli esercizi da fare. Andiamo quindi a vedere. La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato sollecita l'intera comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del fare scuola, ma non a scuola, e del fare, per l'appunto, comunità. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, per evitare il rischio di isolamento e di demotivazione. Direi che se anche una scuola a distanza, cosiddetta, è una scuola in vicinanza, non presenti all'interno degli ambienti scolastici, ma vicini ai ragazzi nei loro ambienti familiari. Dall'altro lato è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento, ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell'apprendimento, cogliendo l'occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità che si devono creare, soprattutto con la guida dei docenti. Questa esperienza di didattica a distanza, per quanto mi riguardi, non è stata una sperimentazione di novità, è stata più che altro una conferma. Conferma che i miei studenti, che da sempre definisco millennials, probabilmente non aspettavano altro che un'esperienza di questo tipo, per dimostrare come gli strumenti a loro più congeniali fossero appunto quelli in grado di renderli perfettamente autonomi nelle consegne. In questa nuova esperienza di didattica a distanza ho optato per l'utilizzo principalmente delle video lezioni interattive, tramite il programma che mi ha fornito la scuola, molto valido, e contestualmente alle video lezioni interattive in diretta io registro una gran parte in audio con il cellulare dei miei interventi. Ho dei ritorni positivi da parte di quegli studenti che erano in difficoltà durante l'anno scolastico con le lezioni tradizionali. In realtà in questa modalità qui probabilmente perché possono riascoltare, rivedere gli esercizi svolti, stanno avendo delle migliorie. Devo dire che trovarsi tutti i giorni, scambiare sorrisi con i compagni, con i professori e col personale della scuola mi manca abbastanza. Però con le video lezioni riesco anche se in minima parte a trovarmi con i miei compagni, con i miei amici, con i miei professori, che oltre a far lezione ci permette di stare insieme, aggiornarci e quando è possibile anche fare qualche risata. Arrivederla professore! Tutto sommato per me è stata una nuova sfida sperimentare questo tipo di istruzione e ne sto comprendendo le opportunità. Mi sta trovando molto bene ed i risultati sono di alto livello, anche se mi manca il contatto con i compagni di classe, i docenti e la struttura della scuola stessa. Siamo due genitori dei ragazzi che frequentano la scuola Rogazionisti, volevamo ringraziare tutto lo staff, i docenti, il preside, siamo molto soddisfatti della cura e l'attenzione con cui hanno saputo traghettare questo cambiamento in questi momenti appunto non semplici per tutti e siamo soddisfatti e orgogliosi dell'operato di questi ragazzi che si sono adattati alla situazione contingente e stanno facendo del loro meglio per conseguire risultati eccellenti. Anche quest'anno Enea, il troiano valoroso, sta partendo per il suo viaggio, per la sua grande avventura. Lo stiamo studiando insieme ma per la prima volta da sempre probabilmente nella storia della Repubblica Italiana, ognuno di noi lo sta facendo dalla propria casa. Noi insegnanti dobbiamo trovare nuovi modi per raccontare quella vecchia storia. I ragazzi la stanno imparando ognuno dalla casa propria e questa volta anche le famiglie, anche i genitori, magari i fratelli, i nonni, stanno avendo un ruolo importante, stanno viaggiando con noi. È un viaggio nuovo in cui noi insegnanti dobbiamo riscoprirci ogni giorno, dobbiamo probabilmente regolare le nostre scelte, confrontarci. È probabilmente l'esperienza più faticosa e entusiasmante che sia capitata negli ultimi decenni di insegnamento. Ma come tutte le avventure, così come Enea è partito e non sapeva dove sarebbe arrivato, neanche noi adesso sappiamo dove arriviamo. Ma per adesso ci stiamo sicuramente godendo l'avventura. Buongiorno professore, sono Marco e questo è il frutto del mio lavoro. È l'elefante del popcorn. Ho fatto gli occhi e la bocca e le orecchie con dei pezzi di carta. Le orecchie poi le ho ricoperte di alluminio. Anche i piedi sono rotte di carta igienica, ricoperte di alluminio. E l'elefante è tutto, è uno scatolone di cartone ricoperto di alluminio. Il naso, c'è la proboscide dell'elefante, è una bottiglia di plastica ritagliata. In diversi momenti durante la giornata comunico con i ragazzi e con i docenti e vorrei condividere anche con voi una breve riflessione che ho condiviso qualche giorno fa con loro. Ci siamo detti che sono passate diverse settimane da quando non hanno più varcato il cancello della scuola e queste settimane li hanno confinati poi a casa per affrontare questo momento critico della pandemia. Il tempo comunque passa e lo dobbiamo vivere bene anche se non avevamo previsto in questo modo. Ci siamo detti che abbiamo la possibilità di riflettere in questi giorni su tante cose che davamo forse per scontate. Possiamo comunque restare uniti, condividere questo momento di prova particolare per andare avanti, proseguire nel nostro cammino. Ho ricordato loro che i docenti gli sono sempre vicini quotidianamente, come sempre per aiutarli e accompagnarli nel cammino quotidiano, nel loro dovere dello studio. Ricordo a loro che sempre li seguo anche se a distanza e sono contento per tutto quello che stanno facendo. Sono sempre nei miei pensieri e nella mia preghiera che quotidianamente rivolgo al Signore Gesù. Ho detto a loro che sono molto contento perché vedo che si stanno impegnando e si stanno organizzando bene il tempo quotidiano da dedicare allo studio e allo stare in famiglia. Ci siamo anche detti coraggio, dobbiamo andare avanti. Possiamo tutti insieme dimostrare che siamo una buona scuola e sappiamo fare squadra per dare il meglio di noi stessi. Dopo questo momento daremo sicuramente alla vita un valore diverso. Anche questa è un'opportunità per imparare cose nuove. Da questa situazione ne dobbiamo uscire insieme, ancora più forti. Andiamo avanti con speranza.